La strada per l'arcobaleno Insieme nel percorso della vita è un progetto che al cui interno ci sono altri piccoli progetti. I tre soggiorni estivi sono rivolti a tre categorie diverse di persone, ai bambini con le famiglie, ai ragazzi adolescenti e ai ragazzi più grandi. La particolarità di questi soggiorni è che non sono all'interno di strutture dedicate ai persone disabili, ma sono strutture turistiche adatte a tutti. La scorsa estate siamo stati in Sardegna, in un villaggio a quattro stelle, in pieno Ferragosto, dove c'erano 1200 persone insieme a noi. Tutti eravamo uguali, tutti stavamo lì e ci siamo divertiti insieme a tutti gli altri turisti. Questo progetto nasce per far sì che i ragazzi in età adulta possano poi vivere una propria vita in autonomia e questo non necessariamente con il dopo di noi, dopo che i genitori non ci saranno più, ma soprattutto con il durante di noi. O meglio, come dicono i ragazzi, il durante loro, perché loro desiderano avere una propria vita in autonomia anche quando ci sono ancora in vita i genitori e quindi poter andare a vivere da soli, poter avere un'assistenza adeguata, ma al di fuori della famiglia da mamma e papà. Durante questi soggiorni i ragazzi e i bambini vengono assistiti da un'equip. L'equip è composta da medici, infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, volontari generici, volontari di primo soccorso. Tutte queste figure si inseriscono all'interno del gruppo e partecipano attivamente a tutte le attività del villaggio, del gruppo e di tutta la struttura e mettendo a disposizione la loro conoscenza professionale nel momento in cui c'è bisogno. Quindi non sarà mai una struttura, come potrebbe essere una struttura ospedaliera, ma loro sono lì presenti per vivere la vacanza insieme a tutti gli altri. Vuoi provare anche tu? Chiama l'associazione La Strada per l'Arcobaleno. Puoi contattarla attraverso un'email infochiocciolastradaperlarcobaleno.com oppure chiamando me direttamente, che sono la coordinatrice, Carla Marinelli, chiamando al 339 85 84 487. Ciao, a presto! Grazie a tutti!